un altro video siamo sempre altissimi qua continuiamo la nostra avventura e questo passaggio seguiteci ecco un moschettone poi l'altro e via di là adesso qua c'è un bel diagonale direi che questo qui è un passaggio quasi in mozzafiato è un passaggio intermedio abbastanza semplice questo passaggio qua l'adrenaline diciamo allora diciamo a fare queste cose rimane sempre un po' di adrenalina di adrenalina questo è il passaggio difficile adesso vediamo Alessia è il passaggio difficile che adesso dovrà sganciare i moschettoni eccoci qua dobbiamo arrivare là su in cima di te su qui tra quanto manca? io ho visto c'è un video da strada facile e strada difficile tra il video facciamo quella facile? certo certo è più difficile così e lì fa un po' fatica a passare nel moschettone vieni vieni tanto sei legata sì 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 passano passano ok arriva eccoci grazie a tutti